buongiorno a tutti qui è il genio del tubo e innanzitutto me ne approfitto per salutare due miei amici che si chiama uno daniele e l'altro simone e adesso posso dire un'altra cosa una notizia flash diciamo addio al vecchio porcone come potete vedere l'essere mini addio e benvenuto al nuovo porcone sì esattamente il blackberry z 30 che che stavo aspettando da un sacco di tempo guardate o qua quanto è bello sono così emozionato per la sua apertura questa è la fine del mondo quanto è bello spacchettare pacchi di amazon aspettate perché qua eccoci qua ci vediamo dopo averlo spacchettato eccolo qui il nostro pacco con una mano missione impossible ecco qua per festeggiare non esploso ed eccolo qui il blackberry z 30 che meraviglia proprio bellissimo e adesso aspettate un attimo che ve lo ha vediamo cosa includere la confezione o no quelli dell'amazon mi hanno trollato questa è una mamma mia che puzza oddio richiediamo confezione diamo se cose si rimettono a posto se sei rimesso a posto a ok ecco qua il telefono bellissimo il mio blackberry z 30 piano piano che non vorrei mai romperlo allora leggero unboxing vediamo cosa contiene la scatola contiene delle cuffie molto buone un bellissimo cavetto usb dati usb lezio le il pacchetto con le istruzioni che la prima volta che leggerò è un caricabatterie proviamo accendere il terminale per la prima volta vediamo che succede wow che bello ha fatto una lucina rossa che meraviglia questo è il suo primo avvio sarà un po lento come potete vedere qua c'è la c'è il coso come che si chiama l'uscita hdmi alla mia sinistra e il porta un micro usb qua i bilancieri del volume con il doppio microfono quello in mezzo al tasto per la ricerca vocale e intanto lui si accende quando si accende vi dirò bene adesso dato a scritta con scritto blackberry 10 dovrebbe succedere sì prima di tutto vi chiede di mettere la lingua un secondo perché si deve caricare ecco qua diamo se c'è italiano bene scone verso sinistra per continuare no ho detto italiano bene benvenuto in blackberry benvenuto in blackberry il contratto di letto sta registrando il contratto di licenza sì accettiamo scorre il dito a sinistra per continuare purtroppo registrare connessione wifi aspettate questa è la prossima schermata passiamo e la nostra posizione va beh vai passi va beh facciamo attiva controllo aggiornamenti aspettate quando lo facciamo aggiornare più tardi vi diamo configurazione completata qui bene ecco qui la fine del mondo peccato che voi non potete vedere lo bello come lo faccio il come lo vedo io ragazzi arriviamo a cinquemila like e vi metto a parte proprio le vi farò un seconda parte del video in cui farò vedere bene caratteristiche hardware e software bella ragazzi ciao 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 ciao